asi world vi aspetta con la nuova puntata a partire da lunedì 13 giugno alle ore 20 e 45 coppa gentleman sardi storia cultura territori asi go kart show una grande kermess torna con 180 iscritti coppa della perugina tra baci e anniversari ricordate asi world è visibile su sky sport canale 229 sul digitale terrestre al 402 su tv sat 55 è visibile in replica quotidiana e sul web a partire dal martedì